conferenza stampa vigilia della prima sfida dei quarti di finale scudetto napoli e feld i domenica in diretta su skyway 18 e 15 siamo con mister fulvio colini mister arriva l'appuntamento che tutti aspettavano ovviamente è la classica gara in cui non si può sbagliare nulla anche se c'è una prova d'appello il napoli ci arriva dopo un finale di stagione in cui sicuramente non sei stato soddisfatto soprattutto per l'ultima prova con la camera però sappiamo che il napoli partire che contano tira fuori il meglio di sé beh lo sappiamo sempre fino a prova contraria purtroppo diciamo che dal finale di stagione avremmo potuto fare mezzo guizzo in più e arrivare secondi che era la posizione che noi alla quale noi ambivamo e che purtroppo c'è sfuggita per un punto proprio nel finale ma bisogna anche ammettere che torino ha chiuso la stagione con sette vittorie credo difficilissime tutte perentorie quindi onore a loro e noi concentriamoci su playoff mister hai sempre detto dal da quando abbiamo parlato in questo campionato in questa tua nuova avventura qui a napoli che è una squadra che doveva mostrare appunto il suo valore poi quando si sarebbe arrivati al finale di stagione perché quello è il vero campionato ti sei già tolto una grandissima soddisfazione portando a napoli la coppa italia ovviamente andare fino in fondo anche con le coppa scoletto sarebbe un valore aggiunto enorme noi abbiamo sono otto mesi che lavoriamo insieme cioè non è sembrano tempi lunghissimi in realtà insomma per un progetto serio due anni una volta era 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 normale adesso sembra che c'è sempre ci sia sempre fretta da parte di tutti gli addetti ai lavori società tesserati eccetera noi abbiamo ottimizzato una coppa italia in maniera perentoria devo dire anche entusiasmante questo è stato riconosciuto anche dai nostri avversari però adesso nel playoff è come un quarto di finale di un torneo slam di tennis ci sono le otto teste di serie che sono arrivate a dama e ci affronteremo noi affronteremo i campioni d'italia quindi con tantissimo rispetto e tanta considerazione per loro ma anche fiduciosi nelle nostre potenzialità nelle nostre possibilità hai fatto delle scelte importanti nel mercato di riparazione hai voluto giocatori di tua grande fiducia su tutti citiamo ovviamente bolo ma ce ne sono tanti altri è un napoli che comunque ha risposto alle tue aspettative nonostante anche i tanti problemi perché poi è un napoli che poi ha dovuto far fonte sempre a tante emergenze bene emergenze sono state tante ma ce le hanno avute anche gli altri non è che dobbiamo nasconderci dietro un dito e siamo soddisfatti la squadra è nuova c'ha molti ragazzi napoletani dai portieri in su e abbiamo ripeto ottimizzato perché insomma siamo arrivati a un punto dal secondo posto terzi con un buon percorso con due tre cadute impreviste ma prevedibili impreviste quella partita ma prevedibili durante l'arco della stagione e adesso qualcuno non sta bene e le valutazioni sul playoff che comunque incideranno ma in maniera relativa sulla stagione le faremo dopo il playoff è chiaro che c'è una forte componente mentale nell'affrontare una tipologia simile di competizione a rapido svolgimento e comunque con tutta la crema della della nostra disciplina in campo e vedremo se domenica già da domenica sera se siamo in condizioni mentali di affrontarla nel migliore dei modi che feldi di aspetti i campionati hanno avuto anche loro un campionato difficile una squadra che è stata rivoluzionata rispetto alla passata stagione ma sono pur sempre i campioni d'italia hanno voglia di conservare sì ma c'è un è un derby e tanto per cominciare già è una sottolineatura di su questa partita sono campioni d'italia della seconda ed è una squadra che ha legittime ambizioni a voler ben figurare nel playoff e quindi sono tutte considerazioni che vanno fatte noi non siamo da meno siamo e qui sono di fronte i detentori dello sudetto ma i detentori anche della coppa italia che siamo noi due squadre campane due squadre ai vertici dal del futsal nazionale quindi sarà un appuntamento delizioso per per gli appassionati e spero appagante per i nostri tifosi l'anno scorso napoli ferdi fu la settimana scuoletto sai benissimo come è andata anche tutto quello che che è successo no quindi tu che 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 idea ti sei fatto allora poi se con un sorriso come magari facciamo una battuta anche rispetto a quella questione tecnica ma io sono venuto proprio vedere le proprio le semifinali e posso dire addirittura quasi da tifoso dell'eboli perché perché stavo in una trattativa abbastanza avanzata per poter eventualmente iniziare un percorso poi non è andata così è andata diversamente e devo dire che quelle partite sono state emblematiche sintomatiche di quello che può essere un playoff cioè il playoff è ahimè un campionato a sé e quindi è un grande tabellone di otto squadre e nessuno sa come si potrà sviluppare questo 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 mini campionato a tabellone e secondo me tutti i valori verranno rimescolati in questo appuntamento ultima cosa è cambiata la regola perché si è sempre giocato sai da regolamento la prima in trasferta poi la seconda in casa il napoli quest'anno in casa ha avuto un po di difficoltà è utile nascondere è qualcosa che ne ha preparato il gruppo è una cosa che non c'entra niente cioè che 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 situazione pensi di vivere rispetto a questa doppia sfida così differente almeno da calendario che anche in questo caso vale nulla poco nulla il il pregresso non sappiamo chi giocherà bene chi giocherà male abbiamo visto nella final four di coppa italia sono arrivate squadre con la miglior difesa che hanno preso un sacco di gol squadre con il miglior attacco che non li hanno fatti e qui tutto può essere confermato o tutto può essere messo in discussione e quindi attendiamo questa gara e già sappiamo che comunque sarà una gara molto ma molto difficile